Apriamo quindi parlando del nostro sistema di welfare e di una pensione media di meno di 1000 euro lordi al mese. Quella che hanno percepito lo scorso anno la maggioranza dei pensionati marchigiani, oltre 600.000, secondo quanto elaborato da CGL, CISL e UIL. Ci racconta tutto Maria Francesca Alfonsi. Giovani e anziani divisi dagli anni e uniti da rischio povertà. Da una parte gli under costretti ad andarsene dall'Italia o a restare con la certezza di disoccupazione, un lavoro precarissimo, dall'altra gli over. Ben lontani ricordano CGL e CISL e UIL dalla narrazione dominante di una categoria sociale, quella dei pensionati, di ricchi privilegiati. Perché fanno i conti confederali delle marche? Lo scorso anno in regione sono state erogate 630.000 pensioni, oltre l'80% delle quali previdenziali e resto assistenziale. Ebbene, l'importo medio delle prime, dopo una vita di lavoro, non raggiunge i 1.000 euro lordi e scende a 831 euro, se si parla solo di quelle da lavoro privato, ben oltre la metà delle totali. Le assistenziali sono di 439 euro lordi, mentre le indennità di accompagnamento sono state 53.000, ma in questo caso si parla di persone in totale non autosufficienza. Sono troppi, concludono i sindacati, quelli che stanno scivolando sotto la soglia di povertà. Eppure, eppure a unire i giovani e i anziani in questa sorte crudele, la presenza di un pensionato all'interno di un nucleo vulnerabile consente tuttora di dimezzare il rischio. Povertà estrema, costretti e abituati a sopravvivere con poco, con pochissimo.